Buongiorno amici di Gilda TV, siamo con l'Avvocato Tommaso De Grantes per chiarire la situazione dei precari in possesso del diploma magistrale. Gli insegnanti chiedono il rispetto della legalità e la Gilda chiede l'immediato intervento del MIUR. Buongiorno Avvocato. Effettivamente la responsabile dei precari, di coloro che vantano col titolo magistrale il diritto a essere inseriti nelle gradatorie ad esoremento, ha le sue ragioni nel meito. Ricordiamo che prima dell'anno scolastico 2001-2002 i vecchi ordinamenti prevedevano il diploma magistrale con 4 anni di scuola e un anno di tirocinio. Quest'anno di tirocinio faceva sì che chi si diplomasse allora avesse nel titolo di diploma l'abitazione sia per la scuola dell'infanzia che per le scuole elementari. Per cui successivamente a questa data cosa succede? che i diversi bandi di inserimento e di integrazione delle gradatorie permanenti poi diventate ad esaurimento non hanno consentito a questo personale di essere inseriti nelle gradatorie permanenti. E ovviamente dopo la legge Renzi, avendo questa previsto un piano di assunzione delle gradatorie permanenti, questo personale ha legittimamente chiesto di essere inserito per essere assunto nei ruoli. Ora, qual è il problema che si è creato processualmente? si è creato un problema di riparto di giurisdizione, ovvero stanno decidendo per un verso i giudici amministrativi, per l'altro verso i giudici ordinari. Diciamo che i giudici amministrativi sempre con ordinanze e provvedimenti cautelari, in caso concreto il Consiglio di Stato, sta riconoscendo i legittimi diritti dei precari col diploma magistrale. Per converso i giudici ordinari, sempre con provvedimenti cautelari, stanno in parte accogliendo, in massima parte rigettando queste istanze. Quindi si sta creando e si è creata non poca confusione nel merito legata essenzialmente al fatto che il giudice naturale non si capisce bene allo Stato qual è. Ci potrebbe essere l'ipotesi nel corso del tempo che venga sollevato un regolamento di competenza alla Corte di Cassazione che dovrebbe decidere chi è il giudice competente in materia. Nel frattempo coloro che hanno avuto le ordinanze e i provvedimenti cautelari possono legittimamente chiedere l'esecuzione degli stessi ancorché provvisori, perché ricordiamo il provvedimento fin quando non c'è una sendenza passata in giudicato è un provvedimento provvisorio e pertanto le situazioni in questa fase cautelare potrebbero essere anche assoggettate a delle modificazioni nel corso del processo. Cosa possono fare in concreto questi insegnanti? Chiedere evidentemente all'amministrazione condifida dopo che è stato ottenuto il provvedimento cautelare e nel caso in cui l'amministrazione nulla faccia con un ricorso per ottemperanza, che è un rimedio che si fa presso i tari tribunali amministrativi e che costringe poi l'amministrazione a ottemperare e quindi chiedendo 1. l'inserimento in gradatoria, 2. tutti gli effetti conseguenziali all'inserimento in gradatoria. Questo ovviamente creerà non pochi problemi perché l'amministrazione in tal caso sarà costretta verosimilmente a revocare le nomine in ruolo già fatte per inserire i ricorrenti aventi diritto in base a un ordine delle autorità giudiziarie. E i revocati? E faranno eventualmente ricorso a loro volta per sostenere le ragioni contrarie ai diplomati magistrali e cioè dire i diplomati magistrali in realtà non hanno diritto a stare in gradatoria perché quel diploma non ha valori abilitanti. Insomma una guerra tra poveri? Una guerra spesso tra poveri, sì. Soprattutto nel mondo del precariato possiamo parlare spesso e volentieri di guerre tra poveri, anche se poi si tratta di posti di lavoro e quindi si tratta come dire della madre di tutte le battaglie, soprattutto da parte di coloro che il posto di lavoro trattandosi precari storici lo ambiscono da molti anni. Per altro verso questo apre anche la possibilità a coloro che non sono precari storici e che magari col diploma magistrale possono ambire al ruolo anche con pochi mesi o pochi anni di insegnamento in fondo. Ringraziamo l'Avvocato De Grandis e per la sua disponibilità a guidarci tra i me e altre della giustizia italiana. Arrivederci. Buongiorno e buon lavoro a tutti.